di mandato del prossimo settennio europeo e già i regolamenti per la ripartizione delle risorse sono all'esame dei tecnici e addirittura noi dovremmo affrontare anche il tema di costruire, realizzare e approvare il piano dell'innovazione, cioè una programmazione sulle azioni dell'innovazione. Qualcuno che non vi conoscesse bene potrebbe pensare per visionari, perché in un momento come questo, pensare a tante cose attive da mettere in funzione, se non vi si conoscesse. E invece è il momento giusto, perché avviciniamo gli elementi giusti, fortunatamente per i marchigiani. A cominciare dal Presidente a cui riferirò questo complimento. Senti, tu sei veramente innamorata delle innovazioni, ti dai molto da fare, la ricerca, che è una delle tue cavalli di battaglia. Cosa ci dici? Noi stiamo, innanzitutto noi abbiamo l'anno scorso, no quest'anno, chiuso due bandi che da 8 e 6 milioni di euro, uno sull'innovazione, bandi europei, e uno sulla ricerca, sono arrivati con l'ultimo recupero di risorse che siamo riusciti a fare a 14 e 15 milioni. Ma hai vinto qualche rosseria? No, sono le risorse comunitarie che abbiamo recuperato, verificato, riutilizzato in modo appropriato. E' appropriato e utilizzato in un momento giusto? Sì, credo proprio che questo sia stato il momento giusto, perché tra l'altro sono stati provati, presentati e poi ammessi moltissimi progetti interessanti, costruiti da aziende e da molte aziende che si sono costruite in rete. Per cui noi complessivamente abbiamo messo a disposizione già adesso 29 milioni di euro per ricerca e innovazione sui bandi che sono stati approvati e chiusi ad aprile. Tra l'altro, io ho già detto che continueremo a ricercare le risorse sul POR, che è il documento di programmazione regionale europea, proprio perché vogliamo più possibile utilizzare queste risorse e scorrere questi bandi. Dicevo, in questi giorni ho avuto ospite mio cognato, che adesso è in pensione, ma è stato un dirigente della CE, non intanto sentivo qualche cosa e a un certo punto una sera ma ha detto, oh, io non ci capisco più niente, perché a Bruxelles arrivano solo gente che si lamenta, questi invece fanno, operano, trovano e ha detto due volte, e trovano. E trovano, sì. In un momento come questo, infatti, una delle cose più difficili è trovare i mezzi. Sì, stiamo facendo questa operazione di utilizzo di tutte le risorse disponibili e di soprattutto riorientamento delle risorse, perché decidiamo che piuttosto che investirle in alcune rivoli che potevamo permetterci nel momento in cui non c'era la crisi, oggi abbiamo deciso di massimizzare tutto e finché è possibile, senza aumentare tra l'altro la tassazione, perché questo è un altro dato rilevantissimo, noi abbiamo deciso di non utilizzare l'aumento di addizionali, abbiamo utilizzato solo, e questo ci tengo a dirlo, un piccolo aumento di accise sulla benzina, perché abbiamo avuto la richiesta pressante delle province e dei comuni colpiti dall'alluvione, che non avevano risorse per poter finanziare e pagare i lavori urgenti fatti proprio nei giorni a ridosso dell'alluvione, perché a differenza delle regioni che tra l'altro guarda caso sono tutte regioni del centro-destra, tranne la Basilicata, e quindi il Veneto, il Piemonte e il Lazio, noi e anche la Liguria mi risulta, non abbiamo avuto dal governo nessun tipo di sostegno ancora che riguardi il rifondere i danni subiti dalle alluvioni, abbiamo recuperato attraverso questa operazione circa 15 milioni di Euro che abbiamo messo a disposizione di province e comuni colpiti e in più abbiamo predisposto 5 milioni di Euro di fondo per l'alluvione, che ha proprio l'obiettivo di garantire i prestiti e i finanziamenti che le si chiedono per far fronte ai danni subiti. Senti, in tutto questo mondo, a parte il fatto che se ci fosse ancora mio cognato, direbbe che è capitato in un mondo di matti, perché diamo questa impressione. Adesso, com'è la situazione nella regione? C'è qualche spiraglio di ripresa? Allora, noi stiamo vedendo che c'è un settore, il settore calzaturiero, che dà segni interessanti di ripresa, anche se ovviamente non sta alle percentuali per le crisi, però dà segni di ripresa soprattutto nella qualità medio-alta delle produzioni, questo significa che sono riusciti ad entrare in mercati anche internazionali che crescendo a differenza nostra dal 3 al 4% all'anno, hanno fasce larghe di popolazione che si possono permettere l'acquisto di beni di valore. Siamo invece un po' più preoccupati per le attività di mercato interno che riguardano l'agroalimentare, riguardano le costruzioni, perché evidentemente essendo l'Italia un paese in cui si cresce zero, questa è l'aspettativa di crescita dell'anno prossimo, è evidente che anche avendo delle risorse i cittadini sono resti ad investirle. Noi abbiamo avuto alcuni incontri con, oltre che con le associazioni di categoria generalmente rappresentative, anche con quelle di settore, Lancia appunto dichiarava che c'erano forti difficoltà a gestire ad esempio il mantenimento della forza lavoro, che già ha subito un depauperamento ai primi di quest'anno. Credo che dovremmo mettere in campo urgentemente tutte queste azioni previste sul bilancio, perché questo ci consente di avere risorse da indirizzare non solo a sostenere i settori tradizionali che ovviamente non possiamo abbandonare, ma anche a capire la futura declinazione delle marche. Com'è il rapporto, la sospiera dei rapporti con le banche? Ma noi intanto, come sapete, noi abbiamo un tavolo di concertazione che si chiama tavolo di concertazione regionale, che sovraintende a tutte le operazioni che riguardano l'industria, l'artigianato e le altre iniziative imprenditoriali, nel quale siedono sia i rappresentanti delle parti sociali che delle associazioni di categoria. Pur non essendo previsto dalla legge, abbiamo deciso all'inizio della legislatura, quando è stato tentato assessore, di invitare anche un rappresentante dell'ABI. Infatti l'associazione bancaria italiana, regionale, proprio perché, pur non facendone parte, quindi non potendo votare, ma assistere e anche dialogare nel momento in cui individuiamo le linee di intervento, stabiliamo le procedure, definiamo il percorso dei bandi, individuiamo le risorse, consente di poter stringere un accordo intenso e anche proficuo. Abbiamo anche firmato con l'ABI un accordo che scade al 31 di dicembre, che stiamo già tentando di rinnovare per l'anno prossimo, che riguarda una modalità di, oltre che di anticipazioni sulle fatture per i lavori fatti alle pubbliche amministrazioni, anche la possibilità dell'accessione del credito, che serve agli imprenditori per poter ottenere liquidità e quindi poi lasciare e finanziare alla banca il rapporto con l'amministrazione che liquiderà il saldo, perché purtroppo noi stiamo facendo un lavoro molto intenso sul pagamento delle nostre spettanze, siamo in una media di circa 60 giorni a data della fattura, con alcuni picchi più positivi, altri invece meno positivi per quanto riguarda… Io sono tra i picchi negativi… E vabbè, qualche picco negativo ci deve stare… So che il mio gruppo aspetta un po' più di tempo… Allora adesso dirò a Marcolini che bisogna rispettirci un po'. Senti, dimmi una cosa, la macro regione adriatica ionica, adesso ha avuto via libera dall'Europa, che ripercussioni può avere per i nostri imprenditori, per la nostra risposta eccetera? Io credo che sia strategica, perché noi intanto diventiamo punto di riferimento delle regioni della costa adriatica e lo diventiamo sia nei confronti dell'Europa che nei confronti di tutto quel mondo che va dal Baltico in Russia sulla costa Jugoslava, che ci consente di dialogare con i paesi che entrano adesso nel percorso europeo, che si affacciano e entrano nel percorso europeo e che sono opportunità di investimento e di produzione molto forte. Tra l'altro il fatto di avere individuato la regione ci consente di poter poi candidarci alla utilizzazione di risorse progettuali specifiche che l'Europa metterà in campo. Senti una cosa, voglio toccare un punto che so che ti sta molto a cuore. Tu segui con particolare attenzione l'artigianato, ma in particolare ancora di più l'artigianato artistico. Sì. Perché? Ma guarda, in realtà ognuno di noi ha delle passioni, anche io ho delle passioni e la mia passione personale è proprio le produzioni fatte con la cura dell'artista, ma che in realtà loro si definiscono artisti e noi abbiamo nelle marche delle persone straordinarie che hanno dei talenti incredibili, che sono riconosciute nel mondo, in mercati a noi del tutto ignoti e che sono considerate quasi delle star e che noi invece consideriamo semplici artigiani. E poi perché lì sta, non in passato, ma le radici delle marche. Cioè da quello sono nati gli artigiani che poi hanno fatto le scarpe, sono nati i grandi industriali, è nata le marche come le conosciamo noi. Da un grande che attualmente, sempre mio cognato, ma come ha fatto a fare strada in quel modo, quel tale? Ha avuto delle eredità? Sì, dico, la mamma faceva le scarpe nello scalino davanti a casa, perché di fianco c'era un'altra signora che lavorava le scarpe, che lavorava, diciamo, proprio sullo scalino. Sì, sullo scalino, esatto. Bene, adesso è una delle più grandi forze finanziarie. Esatto, e quindi... Senti una cosa, a un dato punto, non devo dimenticarmi che tu avevi qualche tempo fa, non so se ne è ancora, una passione per il nuoto artistico. Eh, nuoto sincronizzato. Nuoto sincronizzato, vedi qui ricordo tutto. Tutto, è quasi, come dire, commovente questa cosa. No, è una mia passione, non riesco più a seguire, perché non ho più il tempo materiale. Ne avevo poco prima, adesso quasi niente, però è la mia passione, perché sono così belle, così aggraziate, no? Sembra che veramente vivano in un'altra dimensione, quando vanno fuori dentro dall'acqua, e quindi questo senso di leggerezza, di forza, insieme, sono veramente belle. Senti, purtroppo il tempo è finito, ma ti devo fare un'altra domanda, impegnativa nel tuo ruolo. Cosa ti sentiresti di dire ad un giovane, per fortuna nelle Marche ce ne sono tanti, di questi giovani che hanno voglia di fare, hanno voglia di creare, hanno voglia di realizzare, un giovane che voglia mettere su un'impresa oggi? Guarda, io penso che... Di diresti di ricover... No, no, di ricoverarsi... Io so che è dura, so che è dura, so che ci si scontra di fronte a un percorso impervio, però io penso che ognuno di noi deve coltivare i propri sogni, e se è possibile impegnare la propria vita a realizzarne qualcuno. Per cui non bisogna rinunciarci, soprattutto in un momento di grave difficoltà come questo, perché avere un obiettivo che anche ci sembra ambizioso e irraggiungibile, intanto ci fa guardare con minore ansia e preoccupazione le cose purtroppo negative che abbiamo intorno, ma ci dà anche la forza per superarle, perché noi abbiamo una prospettiva davanti. Non avere obiettivi, non avere sogni, non avere prospettive significa condannare tutti ad una situazione di insoddisfazione, di ansia. Io direi questo a un giovane, cioè coltiva il tuo sogno e trovi qualcuno che per quello che può non lo considera né un'utopia né un'esaltazione, ma ti aiuta a sostenerlo e realizzarlo. Noi abbiamo tanti strumenti, ma soprattutto nelle Marche abbiamo visto che è possibile farlo, quindi io lo consiglierei di non rinunciare mai. Un'altra, allargo, per un momento l'ultima domanda. Ci sono marchigiani che sono veramente, che secondo me, dicevo sempre, lo dico sempre, è il miglior prodotto della regione, è il marchigiano. Sì, esatto, è vero. Ci sono ancora delle Marche che hanno delle grandi preoccupazioni, delle grandi situazioni e quindi c'è ancora la possibilità di dargli una mano? Marchigiani che dicevi hanno... Che hanno delle imprese, piccole imprese, artigiani. Ma sì, noi stiamo lavorando con intensità, abbiamo messo delle iniziative importanti quest'anno, abbiamo rifinanziato, come ti dicevo, in misura della crisi, abbiamo finanziato l'innovazione che interessa molto le piccole e piccolissime imprese, perché l'innovazione loro tante volte la fanno senza saperlo. Quando prendono in mano il loro prodotto, lo guardano, lo cambiano, lo studiano, lo muovono e quella è innovazione, innovazione del prodotto. Ovviamente, e per fortuna. E loro non meno se ne rendono conto. Poi magari viene qualcuno da fuori e gli dice, guarda, questa è una cosa innovativa e quindi gli fanno un progetto che può intercettare delle risorse, che li aiuta a continuare a lavorare, a migliorare. Quindi noi abbiamo... L'innovazione serve a questo, per questo abbiamo investito molto e su questo, io una cosa la voglio dire, sulla ricerca, perché la ricerca è sempre stata considerata appannaggio delle grandi industrie. Quest'anno, nel bando che abbiamo adesso pubblicato, abbiamo messo una riserva, ho voluto mettere una riserva del 10% per le aziende artigianali, sulla ricerca.